Il pronto soccorso dell'ospedale di Mistretta arrischia la chiusura addirittura entro questo mese di febbraio. La causa? La carenza del personale. Dei sette medici previsti dalla pianta organica in servizio ce ne sono soltanto quattro, che dal primo di marzo diventeranno tre. Uno di loro ha già rassegnato le dimissioni. Si tratterebbe di un grave danno per l'intero territorio che ha come punto di riferimento il nosocomio Mastratino. Il pronto soccorso cittadino al momento garantisce, come giusto che sia, il servizio H24, ma con soli tre medici e il protrarsi di questa situazione, inevitabilmente l'ASP prenderà la decisione di chiudere il presidio e convogliare le forze disponibili all'ospedale di Sant'Agata Militello. Da fonti interne all'ospedale arrivano sensazioni di preoccupazione. Ci dicono che i pochi medici in servizio non possono continuare a sostenere questi turni massacranti e garantire in queste condizioni precarie un'assistenza sanitaria adeguata. Questo problema non riguarda solo Mistretta, ma anche l'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, il cui pronto soccorso al momento opera solo nelle 12 ore diurne. Il fenomeno della carenza dei medici e i tagli alla sanità operati negli anni passati hanno creato un deficit nell'assistenza sanitaria senza precedenti. Il cittadino è sempre più solo, specie in questi territori marginali e demarginati, dove la politica, seguendo la logica dei numeri, ha tolto sempre più servizi, aumentando nel contempo sempre più situazioni di disperazione e dispersione. Il diritto alle cure, in teoria, è di tutti, ma nella pratica, evidentemente, non è per tutti.